Domenica 19 dicembre 2021 è terminata la nuova edizione di All Together Now, il programma di Michelle Unziker che vede tra i giurati Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. La trasmissione non ha brillato per gli ascolti tv e anche l'ultima puntata non ha appassionato più di tanto. Solo 2 milioni e 31 mila telespettatori con il 13,02% di share. La serata è stata vinta da Rai 1 con lo speciale soliti ignoti Teleton che ha conquistato 3 milioni e 781 mila il 18,58%.